Ed eccoci arrivati a mercoledì 26 agosto 2020 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo con la riete. Se avete ben seminato in campo professionale, potranno arrivare piccole ma significative promozioni, opportunità di favorevoli cambiamenti ed entrate di denaro extra. Toro, gli astri rendono instabile l'umore e vi rendono sospettosi nei confronti del partner di sempre. Pensate in positivo, fate le cose che vi fanno stare bene e scaricate le tensioni in un'attività sportiva. Gemelli, scarsa socievolezza e malesseri passeggeri potrebbero rendere funerea la giornata. Cercate di reagire, concentrando le vostre energie nel lavoro, foriero di novità e soddisfazioni. Vietato trascurare la persona amata. Cancro, per cominciare sarete abilissimi nel lavoro, tanto da concludere trattative difficili. Accadranno cose piacevoli anche nella vostra vita affettiva. Le storie d'amore arrugginite da tempo risprenderanno come per incanto. Leone, oggi il dialogo con i vostri familiari potrebbe segnare un'improvvisa battuta d'arresto e provocare qualche incomprensione. Saranno i vostri fratelli, gli studi dei figli o la loro vita sentimentale a crearvi qualche grattacapo. Vergine, le stelle esaltano la vostra socievolezza. Vi accorgerete che le vostre idee sono apprezzate e prese in considerazione da chi di dovere e che la vostra compagnia è molto apprezzata dal partner e dagli amici. Bilancia, favorevoli di segni astrali annunciano una giornata positiva. Rimboccatevi le maniche, dateci dentro. I risultati non vengono certo da soli, lo sapete bene. Entrate di denaro per molti di voi. Scorpione, buone notizie dal settore professionale. Non bastano a cambiare il segno a un periodo che è ancora un po' ostico alla maggior parte di voi. Non siate troppo critici e polemici invece nei confronti della persona amata. Sagittario, probabili impegni renderanno impossibile ad alcuni di voi il vedere, l'incontrarsi con persone care a cui vorreste dedicare più tempo. Tuttavia questo distacco non influirà negativamente sul rapporto. Capricorno, è il vostro momento. Chiedete e vi sarà dato. Avete forza, determinazione, costanza e anche la fortuna dalla vostra parte, pertanto potreste realizzare progetti e raggiungere obiettivi importanti. Acquario, pianeti dissonanti vi invitano alla prudenza in ogni cosa che fate perché correte il rischio di commettere errori o andare incontro a una pesante sconfitta. Mettete a fuoco ciò che non va nel rapporto di coppia e state alla larga da persone indiscrete. Pesci, lavoro o impegni mondani. Un bel diremma, ma alla fine preferirete i secondi perché le stelle di oggi vi rendono vivaci e più che mai amanti delle gioie della vita. Non mancheranno le occasioni per viaggiare, tantomeno per divertirvi come pazzi con gli amici.